vitalizi sì a mitigazione dell'indice istat il consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di iniziativa dell'ufficio di presidenza il presidente Antonio Mazzeo, Toscana, prima e unica regione in Italia ad intervenire a Fevizzano a dicembre arrivano i sapori di Natale 2022 la manifestazione animerà il borgo fino al 12 dicembre con l'apertura dei palazzi storici e con oltre 50 stand di enogastronomia Dopo un serrato confronto in ufficio di presidenza, in commissione bilancio e tra capi gruppo l'Assemblea Toscana ha approvato la proposta di legge disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura registrando 31 voti favorevoli e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle L'atto di iniziativa dell'ufficio di presidenza del Consiglio parte dalla valutazione che la piena applicazione del meccanismo di indicizzazione previsto porterebbe ad un sensibile incremento di spesa e ad un successivo adeguamento degli importi degli assegni non congruo rispetto alle esigenze di sobrietà e di risparmio Avremmo avuto un aumento di costo, visto che l'inflazione è stimata intorno al 12% di circa 700 mila euro Noi siamo invece la prima regione italiana ad aver approvato oggi e ringrazio tutti i colleghi consiglieri una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento ISTAT dei vitalizi In più abbiamo approvato, anche questo all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo questa è una valutazione che dipende dal rapporto anche con il Governo Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie vivono, faticano ancora più del solito il calo energia, l'aumento dell'inflazione abbiamo voluto dare un messaggio, un messaggio forte è chiaro che la regione toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiaro tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600 mila euro di risorse dei toscani Noi abbiamo lavorato con il legislativo insieme all'ufficio giuridico insieme al segretario generale per proporre una norma che in virtù anche di quelle che sono state le scelte, le decisioni in questi anni della Corte Costituzionale tenesse conto di alcuni indirizzi che sono stati dati il primo che la durata deve essere limitata nel tempo e noi abbiamo scelto una durata di tre anni e il secondo punto è che ci sia progressività ed equità e lo abbiamo fatto perché abbiamo deciso di fare tre scaglioni l'1% a chi ha un vitalizio superiore ai 3.000 euro il 2% a chi ha un vitalizio tra i 1.500 e i 3.000 euro e il 3% a chi ha un vitalizio sotto i 1.500 euro permettetemi però di fare un appello ai colleghi gli ex colleghi consiglieri noi con loro abbiamo parlato abbiamo parlato a lungo in questi mesi io mi auguro che proprio sulla linea indicata dal presidente Mattarella ci sia la possibilità che loro facciano un gesto forte e che decidano da soli di non richiedere neanche quell'adeguamento che noi abbiamo dovuto fare proprio per fare una legge che fosse secondo noi almeno non impugnabile insomma questo è un appello che chiedo a loro a nome di tutti i colleghi consiglieri una scelta importante che tiene conto del quadro economico sociale che i cittadini stanno vivendo negli ultimi mesi e che quindi va proprio incontro a un'esigenza di razionalizzazione dei costi della politica la regione toscana è l'unica regione italiana che ha deciso di ridurre l'indicizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali è noto che i consiglieri regionali non godono più del vitalizio sono rimasti in piedi i vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla nona legislatura compresa poiché c'è una norma che impone l'adeguamento di questi vitalizi agli indici Istat oggi la regione toscana ha deciso di ridurre sensibilmente questo incremento e lo ha fatto ancorandosi a dei parametri che si avvicinano in alcuni casi allo zero proprio per far sì che questo incremento sia da una parte rispettoso del dettato legislativo che ci impone a livello nazionale un adeguamento degli importi dei vitalizi ma dall'altra parte che sia quanto più possibile contenuto una scelta importante che altre regioni non hanno fatto e che comporterà una riduzione di costi della politica sensibile per la regione toscana se infatti nulla si fosse fatto a livello legislativo avremmo avuto per i prossimi tre anni ragionando del bilancio di previsione 2023-2025 un incremento annuo di costi vicino a 750.000 euro all'anno in questo modo i costi si riducono a circa 90.000 euro all'anno quindi con un risparmio sensibile che si avvicina ai 650.000 euro all'anno Sì una scelta giusta, una scelta difficile però il coraggio di un gruppo dirigente questo che oggi è in consiglio regionale di chi ha guidato questa trattativa abbiamo avuto il coraggio di andare a ridurre l'importo dei vitalizi alle persone che prima di noi hanno amministrato la Toscana forse è stato per me avremmo potuto anche eliminare ma sicuramente andremo in questa direzione perché c'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat intanto il coraggio di togliere 600.000 euro che saranno destinate invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani a tanti progetti che possiamo fare è assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento ma intanto oggi una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici indipendentemente dall'appartenenza hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione quella dei privilegi del passato quanto noi come amministratori non abbiamo questo privilegio è corretto che sia, questo ci consente di andare a testa alta dai nostri cittadini sia questa legislatura che quella precedente male avevano fatto in passato invece a pensare di mantenerselo per sé pensare di rivalutarselo e poi a quelli dopo togliere hanno fatto bene a toglierlo a noi ma noi facciamo bene ad eliminare il livello della rivalutazione è un privilegio dovuto da chi in passato aveva deciso di legiferare questo è logico che oggi di fronte a un'inflazione come questa di fronte a un momento difficile come questo la prima cosa sarebbe stata quella di chiedere proprio ai beneficiari di questo vitalizio di rinunciare così ci aspettiamo magari una risposta anche da loro nel frattempo però il Consiglio regionale ha dato un messaggio un messaggio è quello di dire che fermo restando il vostro vitalizio ma la rivalutazione dell'Istat è quella che pensiamo che dovesse essere con più contenuta per questo era l'unico strumento che ci poteva permettere di arrivare a questo obiettivo nel mio ordine del giorno intanto ringrazio tutti i capogruppo perché lo hanno controfirmato permettendomi appunto di poterlo discutere in aula è quello di andare nei prossimi semestri di dare mandato al Presidente Gianni nell'accordo Stato-Regioni di portare avanti proprio questa nostra iniziativa cioè quello di togliere definitivamente non il vitalizio perché quello non possiamo ma la rivalutazione Istat al tempo stesso nel momento in cui dovesse esserci parere favorevole andremo a rivisitare anche la legge regionale del 2019 Il vitalizio è uno strumento, lo abbiamo detto tutti in aula, ormai obsoleto e superato e forse figlio di un'altra era politica il problema è un altro, il problema è che il vitalizio della regione toscana e qui c'è un'anomalia, il vitalizio della regione toscana è un vitalizio che si rivaluta annualmente in base all'Istat quest'anno con l'inflazione a oltre il 12% vorrebbe dire rivalutare di oltre 750 mila euro il vitalizio degli ex consiglieri regionali ricordiamo a tutti che gli ex consiglieri regionali percepiscono il vitalizio perché durante la nona legislatura qualcuno ha pensato di fare il bello in quel momento il paladino dell'antipolitica abolendo i vitalizi ma dimenticandosi di dire che li avrebbero aboliti a partire dalla legislativa successiva alla loro un primo capolavoro detto questo a me è dispiaciuto che il consiglio regionale abbia dovuto legiferare per impedire che si rivalutassero i vitalizi del 12% mi è dispiaciuto perché stiamo parlando di vitalizi che prendono degli ex amministratori degli ex consiglieri cioè persone che in vita loro hanno amministrato e governato la nostra regione che sanno cosa significa governare in momenti drammatici per il paese come questo anche se forse in vita loro hanno governato in momenti più floridi ma sanno cos'è un operaio che protesta sotto la regione perché perde il lavoro uno studente che protesta, una ditta che chiude, una RSA che si lamenta lo sanno benissimo e allora avrebbero dovuto fare una cosa semplicissima seguire l'esempio del Presidente della Repubblica della massima carica dello Stato italiano che ha rinunciato all'adeguamento della propria pensione del proprio vitalizio e fare lo stesso Essere qui oggi in aula a parlare della rivalutazione dei vitalizi invece dei problemi reali dei toscani chiariscono le consigliarie dei 5 Stelle è qualcosa che ci provoca un profondo disagio etico e morale siamo la forza politica che più di ogni altra si è battuta contro questo privilegio e non possiamo accettare compromessi neanche a ribasso la soluzione individuata non solo non ha le caratteristiche per sopravvivere al contenzioso che sicuramente ne deriverà ma avrà l'effetto di far crescere la spesa a carico dell'istituzione a causa dei ricorsi votare a favore, al di là delle convinzioni ideologiche sarebbe stato un grave errore la politica ha bisogno di esempi concludono le consigliere Galletti e Noferi un autorevole è quello del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha rinunciato all'adeguamento del suo assegno all'inflazione e al versamento del vitalizio nell'ambito della discussione d'aula il Movimento 5 Stelle ha presentato un ordine del giorno con l'impegno per la Giunta regionale di rimettere in discussione la rivalutazione dei vitalizi in conferenza permanente l'atto è stato respinto dalla maggioranza si accendono le luci a Fivizzano dove dall'8 al 12 dicembre va in scena Sapore di Natale 2022 oltre 50 stand enogastronomici con piatti e prodotti tipici della lunigiana che animeranno le strade e le piazze del borgo toscano nei giorni della manifestazione non mancheranno canti di Natale laboratori per bambini spettacoli di artisti di strada l'evento è stato presentato nell'ambito di una conferenza stampa a Palazzo del Pegaso alla presenza del consigliere regionale Giacomo Bugliani Sapori è ormai una manifestazione tipica non soltanto del comune di Fivizzano ma di tutta la provincia di Massacarrara ed ha avuto un vero e proprio riconoscimento a livello regionale come una delle più importanti manifestazioni di carattere enogastronomico e culturale del nostro territorio l'edizione di quest'anno si sdoppia arriva quindi anche al periodo natalizio si tratta infatti di un'iniziativa ormai talmente apprezzata che la replica anche in un contesto diverso da quello usuale che di solito è quello dell'inizio estate diventa un'occasione di valorizzazione non soltanto dell'iniziativa ma anche di Fivizzano uno dei borghi più belli della nostra regione venire a Fivizzano perché innanzitutto abbiamo aperto i palazzi storici Palazzo Cogliari dove sarà presente una mostra che rievocherà una grande manifestazione del territorio che è la rievocazione storica della disfida degli arcieri di terra e corte e quindi lì in quel palazzo, in quel contesto ci sarà una mostra di tutti gli abiti rinascimentali che ricorderanno il periodo dei Medici e questo è un fatto importante perché Fivizzano era stato anche chiamato la piccola Firenze dal Carducci e ci lega molto a Firenze perché abbiamo le Mura Medice con Cosimo I e la Fontana Medice con Cosimo III poi ci saranno tutti dal Museo di San Giovanni alla Biblioteca Civica e una cosa che mi preme sottolineare che proprio per questo richiamo storico abbiamo voluto il nostro albero di Natale sarà la Fontana Medice fatta costruire da Cosimo III che ricorderà Fivizzano, città della stampa perché sarà adibita a albero di Natale con delle sfere gigantesche che andranno a sottolineare chi ha inventato dopo Gutenberg la stampa cioè Jacopo da Fivizzano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti